In questo video, ma forse ne serviranno un paio, vi spiego come salvare su disco un singolo frame catturato con scattafoto ed eventualmente poi ricaricarselo da disco, oppure fare la stessa cosa con il flusso video catturato dal webcam usando il bottone cattura video. E inizieremo la registrazione con il REC e ovviamente la stopperemo invece con lo STOP, quindi potremo scegliere diversi momenti del video da trasferire poi su disco. Cominciamo subito ad intenderci sui nomi dei componenti, questo l'ho chiamato CARICA FOTO BTN, questo SALVA FOTO BTN. REC e STOP non sono invece due bottoni, ma due PICTURE BOX, perché mi è stato così più facile ridimensionare l'immagine sullo sfondo REC e STOP. Queste invece sono proprio due iconcine già più o meno grandi come i bottoni. Questo PICTURE BOX quindi l'ho chiamato START, PB PICTURE BOX e questo STOP, STOP PICTURE BOX. Controlliamo per quanto riguarda il codice, prima di tutto che anche voi abbiate la stessa sequenza di USING, MPEG, ad occhio dovrebbero mancarvi questi due. Questo riferimento è chiaramente a video for Windows e serve poi per la registrazione del flusso video. Non è l'unico modo, c'è anche la possibilità di gestire le MPEG, però iniziamo con questo. Il salvataggio o il caricamento dell'immagine è tutto sommato abbastanza semplice, perché possiamo sfruttare i comandi nativi del PICTURE BOX per queste operazioni. Per poterlo fare, però, non ci possiamo accontentare, come programmato in precedenza, di disegnare la mappa dei pixel brutalmente sulla superficie sottesa dai due PICTURE BOX, ma dobbiamo proprio creare un oggetto immagine ed associarlo ai due PICTURE BOX. Così alla fine, in un certo senso, avremo un codice un po' ridondante, perché se avessimo scelto di partire fin da subito con la tecnica di creare prima un'immagine, oggetto immagine, e poi associarlo al PICTURE BOX, automaticamente poi avremmo avuto la sua visualizzazione nello stesso riquadro. Però mi sembrava interessante anche la prima tecnica, quindi accettiamo questa piccola ridondanza. E il codice diventa questo. La parte nuova è questa. Creo dapprima un oggetto bitmap, chiamato immagine. Da dove prendo il bitmap? Faccio riferimento al parametro E, che contiene i dati riguardo al nuovo frame. Faccio riferimento all'oggetto frame, che è l'immagine trasmessa dalla webcam. Utilizzo il metodo clone, che mi genera una copia, c'è bisogno di lavorare con una copia, di quel bitmap, di quello che in realtà devo forzare a essere considerato un bitmap. Lo faccio con questo cast. La seconda istruzione si limita ad associare alla property image di scatto PIC, che corrisponde, vi ricordo, a questo PICTURE BOX, che cosa? L'oggetto bitmap appena creato. Adesso possiamo passare ad esaminare il codice dell'evento CLICK per il salvataggio e il caricamento. Cominciamo da salvataggio. È sufficiente fare un doppio CLICK per aprire lo scheletro per voi vuoto, e che andrete a riempire con questo codice. Se nessuno ha ancora fatto CLICK sul SCATTAFOTO, non c'è nessuna immagine da salvare, quindi il codice andrebbe in TILT. Ecco il senso di questo controllo. Solo se in Image ci ho messo dentro almeno un bitmap, il primo bitmap, allora potrò procedere con il salvataggio. Diversamente no. Apro poi il classico dialog box pannello per la scelta di un file, impostando però in anticipo la cartella di partenza, adesso però vi spiego cos'è questo salva file dialog, è semplicemente il nome che ho dato, devo spostare verso l'alto e poi non riesco, devo prima ridimensionare e poi spostare verso l'alto. Eccolo qua. Ho aggiunto, prendendolo dalla tavolozza dei componenti visuali, nella sezione finestre di dialogo, prima un save file dialog, che poi io ho rinominato salva file dlg, e un open file dialog, trascinandolo sempre qui, che poi io ho rinominato invece leggi file dlg. dovreste già essere capaci di usarli, perché sono quelle che ho utilizzato nelle playlist di base che hanno esplorato l'utilizzo di Visual Studio, C Sharp e .NET. Comunque non sono difficilissime come componenti da usare. dicevo, prima di far apparire il pannello che mi permetterà di scegliere dove andare a salvare su disco l'immagine, imposto nella property cartella di partenza, initial directory, di questo salva file dlg, che cosa, la directory corrente, in pratica andrò a salvare il file immagine lì dove c'è l'ex del programma, insomma, adesso per comodità ho fatto così. Quella cartella la posso recuperare facendo riferimento all'oggetto environment predefinito, che contiene una property current directory, che è proprio quella che voglio. ecco perché dopo che ho scattato una foto, quando faccio clic sul bottone salva, mi viene proposta in automatico, appunto, la cartella debug che contiene l'exe, e la current directory, la directory corrente, in riferimento all'exe che è partito e la richiesta. Impostata la current directory, è arrivato il momento poi di far apparire questo pannello, con il metodo show dialog, il quale mi restituirà ok, solo se avrò effettivamente indicato qual è il nome di file da attribuire per l'immagine. Diversamente, il valore restituito sarà diverso da questo dialog risalto ok, e semplicemente annulerò l'operazione. Se invece effettivamente sarà stato scelto un nome di file, quello me lo ritroverò nella property file name del dialog di salvataggio. Questo quindi è il percorso più il nome del file, da fornire al metodo del picture box che salva l'immagine a lui associata. Per cui chiedo a scatto pic, che è questo picture box, che cosa? Per cortesia, in riferimento alla tua immagine, che sicuramente c'è, perché altrimenti non saremmo all'interno della parte vera di questo if. Me lo vai a salvare, save, dove è nel nome di file che mi è stato fornito dal dialog box di salvataggio. A questo punto è molto più facile capire direi immediato l'operazione complementare. Se faccio clic sul bottone di caricamento foto, di nuovo imposto l'initial directory a current directory, ovvio che qui nel codice c'è un po' di ridondanza, con un minimo più di organizzazione avrei potuto produrre un codice più ottimizzato, non ridondante, però in queste situazioni preferisco privilegiare la chiarezza a discapito di un po' di ridondanza. Dicevo, imposto la current directory, questa volta è l'open, quindi il leggi file dialog che apro, di nuovo andrò a procedere solo se lui mi avrà veramente selezionato l'immagine da caricare, e cioè il valore restituito dalla show dialog sarà uguale a dialog result ok. E in quel caso, comanderò al picture box di caricare da disco quel file, il cui nome a questo punto me lo ritroverò depositato nella property file name, come prima. vediamo se è vero, salvo, indico ancora questo name che è quello che ho usato finora per le prove, confermo la sovrascrittura, poi chiudo, rilancio, dico carica, mi ritrovo in questa cartella, indico ancora questo name, e voilà, non si è visto un bel niente, sì, è perché è modalità normal, devo fare stretch per vedere tutto, eccola qua. Ok, il video comincia a essere lunghetto, allora vi rimando per la parte di registrazione video, al prossimo video. Ciao.